Nel giorno in cui il corpo della gendarmeria festeggia i suoi 201 anni di storia, Papa Francesco ha celebrato la messa nelle grotte vaticane in un clima di grande gioia e familiarità. Prendendo spunto dalle letture odierne, il pontefice ha parlato di conversione, della necessità di cambiare stile di vita, ma anche di cercare il Signore nelle piccole cose quotidiane, certi che lui stia facendo lo stesso con noi, perché questa è la logica dell'amore. Più importante di cercare Dio, ha affermato Bergoglio, è infatti accorgersi che lui mi cerca e mi trova sempre per primo e il suo sguardo è fisso su di noi. Tutti, ha aggiunto il Papa, siamo peccatori e commettiamo errori, ma il nostro Dio non si stanca di uscire per venirci incontro, come il padre descritto nella parabola del figlio al prodigo. Perciò, ha insistito Francesco, porte aperte alla grazia, ma anche fiducia nel suo amore. E chiediamo oggi la grazia, Signore, che io sia sicuro che tu stai aspettando. Sì, aspettando me con i miei peccati, con i miei defetti, con i miei problemi. Tutti ne abbiamo, tutti. Ma lui è lì, è lì, sempre. Il peggiore dei peccati, credo che sarebbe non capire che lui sempre è lì aspettandomi. Non avere fiducia in questo amore. La sfiducia all'amore di Dio. Che, Signore, questa giornata gioiosa per voi vi conceda questa grazia, anche a me e a tutti.